L'evoluzione del reporting finanziario verso il bilancio integrato è un fattore fondamentale per capire come governare le aziende, come ben riportare quello che le aziende fanno negli ambiti di sostenibilità, ma soprattutto qual è la strategia e il governo dell'azienda e come vengono gestiti i rischi aziendali nell'ambito della normale gestione. Diventa un fattore competitivo fondamentale per arrivare a dare una visione complessiva dell'azienda stessa e dei suoi rapporti con gli stakeholder aziendali. Grazie per la visione!